Non ritornare mai, c'è una parola che ti aiuterà, la forza chiusa in te, da sola libererà, crisi è con noi. Se ti eri perso ti ritroverai, e nei problemi poi più chiaro rivedrai. La via d'uscita è non fermarsi, vai, non rinunciare più a quell'amore che vuoi, crisi è per noi, cercarsi e sentirsi e trovarsi è la strada e la vita. Cris è il pianeta e la stella cometa, crisi è avventura e finita. Cris è con noi, è con noi. Come un bel ambiente? Ehi, ma cos'è quest'arsenale? Andiamo a scontrare con i Flaming Pups! Come succede? Ti ricordi quella cavallona che era il bando? Consiglale! Ah, non volete dire ciocciate che fanno? Qui la compie della vittura della spagna! Bene, è saltato fuori che lei è la ragazza fissa del capo dei Flaming Pups, e lei ha detto che Kenny che ha cercato di metterle le mani dappertutto. Ma figurati, io l'ho fatto soltanto per le lezioni di biologia. Studio comparato delle calcole. Sì, ma non intendi quello là. Perfetto! Fai una staccata, lancia un urlo, scuoti un...